il mercato del food delivery in italia vale circa 2 miliardi di euro ed è in forte espansione negli ultimi anni è il settore della ristorazione il vero protagonista grazie a una trasformazione radicale che ha trovato nei servizi di consegna a domicilio e nella presa dell'ordine online tramite app le maggiori opportunità di crescita i primi servizi alimentari a domicilio risalgono a lontano 1996 ma il mercato non era ancora pronto i pionieri furono copp ed esse lunga con la possibilità di effettuare la spesa online e riceverla a domicilio oggi è amazon l'azienda leader negli acquisti online e gli aggregatori come just it dalla quale piattaforma è possibile ordinare online qualsiasi tipologia di cibo a domicilio l'andamento del mercato ha spinto alford a sviluppare una soluzione di gestione cassa asporto domicilio e tavoli integrata in tempo reale con gli ordini online da e-commerce app mobile grazie al supporto della tecnologia omnis alford ha sviluppato un software di gestione cassa e presa ordine efficiente e veloce integrandolo con la gestione del magazzino del food cost che permette agli esercenti il controllo degli acquisti il trend delle vendite online è stato soddisfatto integrando in tempo reale gli ordini online da e-commerce app mobile il mercato del food delivery sviluppatosi grazie alla nascita di piattaforme di marketplace aveva il bisogno di permettere ai singoli imprenditori di avere l'opportunità di offrire il servizio anche con il proprio brand alford utilizzando la tecnologia omnis ha dato l'opportunità agli imprenditori del settore food di sviluppare il delivery in autonomia di gestire le proprie anagrafiche di fidelizzare il cliente e di offrire un servizio di qualità nel rispetto dei tempi di consegna e della qualità del prodotto grazie all'integrazione in tempo reale con app e-commerce integrazione in tempo reale è la chiave del successo in quanto permette la gestione ottimizzata dei tempi di consegna grazie alla geolocalizzazione degli ordini e all'ottimizzazione dell'assegnazione delle comande ai fattorini la naturale propensione web della tecnologia omnis ci ha permesso di sviluppare applicazioni smartphone in grado di non subire in termini di malfunzionamenti gli aggiornamenti dei sistemi operativi mobile e di sviluppare senza troppe difficoltà applicazioni smartphone crossing device ovvero fluibri in ambienti android e ios il cliente che ha riscontrato maggior successo utilizzando la soluzione software è senza dubbio l'azienda tramezzino.it l'azienda produce sia prodotti salati che dolci offre il servizio sia business to business che business to consumer per entrambi le divisioni tramite due differenti e-commerce tramezzino.it e foodiescape.com è possibile ordinare online la vasta gamma di prodotti da loro offerti la tecnologia sviluppata da alford consente al cliente di gestire la produzione il magazzino il food cost i fornitori la fiscalità la gestione finanziaria gli ordini le consegne i fattorini alford è stata fondata ad inizio 2014 grazie all'idea di supportare tecnologicamente le pizzerie a sport e domicilio nella presa della comanda il mercato molto vasto e tecnologicamente arretrato offriva l'opportunità di sviluppare un'applicazione web based in grado di sopperire alle difficoltà del settore e di innovare ed evolvere le potenzialità del food delivery la natura di omnis e la sua forte promenzione allo sviluppo web hanno permesso ad alford di lavorare su tutto il territorio nazionale nonostante il cuore pulsante dell'azienda sia la città di milano